Il 28 luglio è la giornata mondiale della tigre, per celebrare questa importante giornata abbiamo deciso di organizzare questo evento dove abbiamo invitato Emir Kusturizza, famosissimo regista, che farà da portavoce per questa importante giornata una giornata in cui vogliamo sensibilizzare le persone su questa giornata e sui problemi che hanno questi animali comunque in natura e sarà un evento di beneficenza in quanto vorremmo poi supportare la 20 Centro, la più grossa organizzazione mondiale con più di 73 progetti nel mondo per la salvaguardia della tigre, in modo tale da dare un supporto fattivo anche a queste organizzazioni che lavorano in natura. Perché unire un evento musicale a un bioparco? A Zoom abbiamo delle zone dedicate ai concerti che ovviamente sono a zero impatto ambientale Il fatto di portare Kusturizza, che in realtà è più un regista, che adesso ultimamente si cimenta anche in una sua musica molto vicina a quelli che erano i suoi film, è solamente un modo per portare la voce di un personaggio importante che è sempre stato attento ai temi dell'ambiente e soprattutto ai temi della diversità o della biodiversità come portavoce per una giornata importante come quella del 28 luglio